Rappresentano un tassello importante del futuro della sanità, ma all'inizio pare non essere dei migliori. La ASLA Toscana Centro, dal primo di giugno, chiuderà le strutture con i posti letto di cure intermedie, quelli che erano stati allestiti per alleggerire il peso sugli ospedali durante i mesi più critici dell'emergenza. Strutture che beneficeranno anche delle risorse del PNRR. Ora che i malati Covid, che hanno bisogno di ospedalizzazione, stanno diminuendo, infatti la ASLA ritiene che in queste strutture non ci sia più necessità. Una decisione presa a causa dell'opprimente blocco delle assunzioni di tutto il personale del sistema sanitario regionale, che costringe l'azienda a chiudere i servizi, per recuperare il personale e per garantire ai lavoratori il diritto alle ferie. Ha attaccato Simone Baldacci della funzione pubblica CGM. Senza una nuova emissione di risorse da parte dello Stato, difficilmente la situazione potrà sbloccarsi. Le regioni sono in difficoltà nel dover far quadrare i conti, ad assumere quando si sollecitano le assunzioni, a farsi carico di un rinnovamento diciamo così anche di strutture di edilizia sanitaria. Però con il passare dei mesi, con il superare la fase dell'emergenza acuta di epidemia, sono convinto che ce la possiamo fare. Sia i posti letto per acuti, sia quelli per le cure intermedie dedicate a pazienti covid sono stati notevolmente ridotti. Le risorse professionali così liberate stanno supportando il piano ferie e l'incremento dell'attività chirurgica per l'abbattimento delle liste d'attesa, ha precisato la ASL Toscana Centro, spiegando anche che non ci saranno riduzioni nel numero di posti letto in area medica rispetto al 2021.